14 maggio 1948. Nasce lo Stato di Israele. La risoluzione 181 delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947 sanciva, allo scadere del mandato britannico il 15 maggio 1948, la nascita di due stati sul territorio palestinese, uno arabo e l'altro ebraico. Gli arabi non accettano la risoluzione e così, con una dichiarazione unilaterale di Ben Gurion e dei leader della popolazione ebraica in Palestina, lo Stato israeliano nasce con un giorno d'anticipo rispetto a quanto stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite e 24 ore prima della partenza delle truppe britanniche.